È stata una giornata difficile in gran parte della Toscana a causa del forte vento. Decine gli interventi di soccorso svolti dai vigili del fuoco, in particolare nelle province di Firenze, Prato, Pistoia, Lucca e Arezzo. Più pesante è il bilancio nel Pratese, dove i vigili del fuoco sono intervenuti a più riprese con l'autoscala per la rimozione di alcuni pannelli e di parti di coperture danneggiate e divelte dal vento. Nelle prime ore della giornata, sempre a Prato, si sono verificati anche disagi alla circolazione a causa della chiusura della tangenziale in direzione nord per la caduta di un grosso cartello stradale. Per fortuna il cartellone non è finito addosso ad automobili o ciclomotori ed è stata così evitata una tragedia. Nel cuore della città laniera inoltre si sono verificati crolli di alcuni alberi, anche di grossa taglia, e la chiusura temporanea dell'accesso a piazza mercatale a causa del crollo di alcuni pezzi in muratura. Il vento forte ha causato disagi diffusi anche nelle province di Pistoia e Lucca. Nel comune di Massarosa, un crollo di un ramo ha isolato per alcune ore la frazione di Gualdo. Nell'alta Garfagnana, al passo delle Radici, al confine tra le province di Lucca e Modena, le raffiche di vento hanno raggiunto i 210 km orari.